Sia per il fatto che il più avviso... Dare riscatto e futuro all'area Exital Sider di Bagnoli. Dopo il recente provvedimento di sequestro a causa delle mancate bonifiche dello stabilimento siderurgico, una tavola rotonda ha riunito i vertici del Comune di Napoli con i rappresentanti sindacali di Bagnoli Futura, la società partecipata del Comune, i cui dipendenti non ricevono stipendi da circa un anno, ma che è stata recentemente rifinanziata. L'obiettivo è quello di rilanciare la conversione dell'area con benefici per tutti, come spiegato dal vice sindaco Tommaso Sodano e da Emanuele Del Guacchio, rappresentante FIOM RSU. Il problema non è solo del Comune, il Comune la sua parte l'ha fatta e la continua a fare. Abbiamo ricapitalizzato un'azienda che in una condizione normale avrebbe dovuto chiarare una situazione fallimentare. In realtà a questa situazione che va avanti da anni, con gestioni sbagliate, con progetti che non sono stati attuati nei tempi dovuti, si aggiunge anche l'azione della magistratura che ha sequestrato tutta l'area. Quindi ci sono problemi complessi, noi pensiamo che il problema si risolve con un intervento del governo, abbiamo chiesto una misura urgente da parte del governo, così come è stato fatto per l'idazità di Taranto, il modo da mettere insieme Bagnoli Futura, bonifica dei suoli, bonifica dei fondali e riprendere quindi il vecchio progetto per dare finalmente una prospettiva non solo ai lavoratori ma all'intera area di Bagnoli. Io credo che i parlamentari accetteranno di aiutarci e che si daranno da fare per questo. Però è chiaro che noi cerchiamo anche delle garanzie che nell'immediato, siccome c'è già un piano strategico che prevede 38 esuberi per quanto riguarda noi lavoratori, sia il comune a doverci garantire a lungo termine la continuità lavorativa. Grazie a tutti.